buongiorno a tutti quest'oggi ci troviamo in piazza marconi in uno stabile edificato intorno agli anni sessanta ci troviamo al secondo piano e in particolare questo appartamento è stato ristrutturato nel 1995 alla mia sinistra entrando vedete la cucina con un arco centrale che divide la zona cottura dalla zona soggiorno con un ampio balcone con vista su tutta piazza marconi ci spostiamo nel grande salone che come potete vedere è veramente molto luminoso con questi serramenti che sono nuovi con elettrocamera in abominio dalla finestra si vede piazza marconi dalla finestra più piccola si vede l'interno del portile da questa area di disimpegno possiamo trovare alla mia sinistra la prima camera da letto matrimoniale alla mia destra la seconda camera da letto matrimoniale anche questa perché per le dimensioni considerata comunque matrimoniale sulle mie spalle invece il bagno con la doccia questa camera da letto è dotata di balcone in questo video trovate un ripassamento del soffitto dove all'interno hanno messo delle luci le caratteristiche di questo appartamento sono il riscaldamento autonomo le spese condominiali che sono molto basse i serramenti con vetri doppi all'illuminio che sono stati sostituiti recentemente e un altro pregio avere il garage di proprietà e la cantina molto capiente vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti